Sindaco, anche lei ha firmato un'ordinanza antispreco da subito in vigore? Sì, subito in vigore e sarà in vigore fino al 30 di settembre. C'è l'ambito territoriale ottimale che gestisce gli acquedotti a livello provinciale, ci ha invitato i comuni a prendere anche quest'anno, come del resto gli anni addietro, questa decisione di vietare l'utilizzo dell'acqua degli acquedotti per irrigare giardini o lavare le auto o cose per le quali si può fare a meno per determinati periodi proprio per evitare gli sprechi. Quest'anno non c'è per il momento una vera e propria emergenza idrica, ci sono state delle piogge anche ultimamente, però questo è un qualcosa che è educativo, che invita a non sprecare acqua soprattutto nei periodi quando questa potrebbe venire a mancare. Quindi questa ordinanza vieta di irrigare giardini, lavare auto eccetera con l'acqua dell'acquedotto se non il lunedì ed il giovedì dall'ora 22 alle 24 in quelle due ore la sera quando c'è un basso consumo tendenziale si può irrigare anche il giardino per quelle due ore.